Musica Tragedia questa mattina alla stazione Cina di Olmi 17 anni con le cuffiette e viene travotto dal treno che non ha sentito arrivare Incidente sul lavoro a Bavaria, 61 anni pensionato muore schiacciato dall'aratro che stava agganciando al trattore 45 anni di Moldiano si perde nella nebbia e finisce con l'auto nel sile Riesce ad emergere ma poi la corrente se lo porta via Faccia a faccia con i rapinatori scoperti di notte in casa, lui viene narcotizzato, lei scaraventata giù dalle scale, tutto alle porte di Treviso Disagio, voli cancellati, incidenti sono le conseguenze di questa nebbia straordinaria nella marca che dura almeno un'altra settimana Tra scandali di mafia capitale e la crisi delle banche popolari, il volto pulito della cooperazione trevigiana scende in piazza Lo scandalo dell'olio contraffatto non tocca la marca, qui la produzione è limitata e soprattutto ipercontrollata L'arte moderna è interpretata dai carabinieri nel calendario 2016 de Chirico e da lì vestono i panni della benemerita Buonasera, un 11 novembre, un giorno di San Martino che faremo fatica a dimenticare quello di oggi Tante troppe, i fatti di cronaca, le tragedie che sono accadute in poche ore La prima in quella di Olmi, nella stazioncina del treno di Olmi questa mattina Quando un giovane, un 17enne che ha perso la corriera decide di prendere il treno per recarsi a scuola Tiene le cuffie nelle orecchie e non sente che un treno sta arrivando e lì in un attimo si consuma la tragedia Ha voluto recarsi di persona sul logo della tragedia lo zio di Luca in compagnia di un amico di famiglia Per capire come possa essere maturato l'immenso dramma per il quale il nipote di appena 17 anni non c'è più Alle 7.41 qui alla stazione di Olmi di San Biagio di Callalta Luca Sponchiado, studente del Planck, è stato letteralmente risucchiato da un treno Quello che precedeva l'arrivo del diretto delle 7.45 verso Treviso E che Luca aveva deciso di prendere per non far tardi alle lezioni Aveva appena perso la corriera e così ascoltando un po' della sua musica in compagnia delle sue immancabili cuffiette Non si sarebbe nemmeno accorto dell'arrivo del convoglio Complice anche la fitta nebbia, come racconta lo stesso zio con parole cariche di immenso dolore Da come stanno dicendo, si è seduto sulla panchina adiacente alle ferrovie E in quel momento è arrivato un treno merci, non un treno merci, una carrozza sola E l'ha preso sulla testa Anche il macchinista per la nebbia ha accorto se l'ultimo momento del ragazzo non avrebbe fatto in tempo a frenare Anche perché il treno con la nebbia mi stavano dicendo che viene leggermente No, attutito forse il suono E anche dalla vista, insomma, il suono forse non si sente tanto Avrebbe compiuto 18 anni il prossimo 7 dicembre Da un anno nei weekend lavorava anche come DJ Luca faceva parte di un gruppo musicale come chitarrista Era un ragazzo amabile e impegnato in parrocchia, racconta sempre lo zio Il papà ha sempre detto di non mettersi queste cuffiette Ma purtroppo i figli a volte non ascoltano mai La morte di Luca ha gettato nello sconforto un'intera comunità Che questa mattina in un via vai continuo nella casa di via Bagnonas per Cenigo Ha cercato di portare il proprio conforto alla famiglia E' una disgrazia, un incidente, purtroppo la nebbia, un attimo di disattenzione E' successa la tragedia E purtroppo, come abbiamo detto prima, non è l'unica tragedia accaduta oggi Ci spostiamo a Bavaria di Nervesa Dove una persona, un pensionato, ha perso la vita Mentre stava cercando di agganciare un aratro al trattore Travolto da questo aratro che stava agganciando al trattore E' morto così questa mattina Danilo Morona, pensionato di 61 anni All'interno dell'azienda agricola Trentin, lungo la schiavonesca Bavaria di Nervesa Tutto accaduto in pochi minuti, poco prima di mezzogiorno Morona aveva chiesto in prestito un trattore da agganciare all'aratro Che avrebbe poi utilizzato per un vicino appezzamento Quello che è successo di preciso, solo i tecnici dello Spisal lo stabiliranno Ma pare, visto che al momento dell'incidente non era presente nessuno Che tentando di far combaciare l'albero motore del trattore con il vomere Quest'ultimo, al primo movimento, si è uscito dalle sedi travolgendo l'uomo Fatali le lame dell'aratro che avrebbero trafitto il pensionato Morto schiacciato dal peso dell'attrezzo agricolo Inutili i soccorsi, giunti subito davanti alla rimessa tra il trattore e l'aratro Per l'uomo non c'è stato più nulla da fare Sul posto anche la moglie e i figli, oltre agli amici e al proprietario del fondo Dove c'è stata la tragedia, che non si sanno dare una spiegazione per quanto accaduto Danilo Morona abitava in via Riedi a Bavaria di Nervesa Poccolottano dal luogo dell'incidente I familiari lo stavano tendendo a casa per il pranzo Dove però lui non è più arrivato In questa lista dobbiamo annoverare un'altra tragedia Questa volta accaduta a Verona Nel posto di lavoro dove Marco Zamperoni, 38enne di Fonte È morto questa mattina verso le ore 8.30 L'uomo stava scaricando da un camion della biancheria per un albergo Quando si è accasciato sul pianale Sembra per un malore Le persone che gli erano vicine hanno subito chiamato il 118 Ma il medico giunto sul posto non ha potuto far altro che constatare il decesso E un altro decesso invece questa volta è stato causato dalla nebbia A perdere la vita un albanese di 45 anni che viveva a Mogliano Vedete nelle foto Victor Cullolli Questo il nome era la guida di una Peugeot 307 alle porte di Quarto Daltino E stava percorrendo verso le 9 via Isonzo Una strada che costegge il Sile alle spalle dei magazzini per encin Per intenderci davanti alla bretella ad entrata dell'autostrada A causa della scarsa visibilità l'automobile è finita nel fiume Scoprendo tra le acque L'incidente è stato notato non passante Che si è gettato in acqua nel tentativo di salvare il 45enne Che nel frattempo era riuscito a riemergere Purtroppo le forti correnti l'hanno trascinato via Il soccorritore l'ha visto nuovamente sparire tra i flutti Il suo corpo come l'automobile è stato recuperato poco prima di mezzogiorno Dai vigili del fuoco come avete visto nelle immagini E adesso invece ci spostiamo alle porte di Treviso Per parlare di sicurezza ma soprattutto di un fatto di cronaca e ferato Rapinatori che si introducono in casa e affrontano le vittime E questo è accaduto proprio alle porte della città nel quartiere di San Paolo Non lascio dichiarazioni, grazie, arrivederci Signora intanto come sta? Volevo chiederle come sta? È abbastanza, si cerca di andare avanti Un'intera famiglia ancora in stato di shock Dopo l'aggressione subita durante la rapina Ida Binotto di 50 anni con il marito Pierfrancesco Tesser, suo coetaneo E le due figlie vive nel terrore di quei terribili momenti Quando nella villetta del quartiere San Paolo a Treviso Ha visto in faccia i suoi aggressori che nel cuore della notte Mentre facevano rezzia in casa L'hanno spinta giù dalle scale Procurandole un trauma cranico e una lacerazione alla testa Con tre punti di sutura Come raccontano i coniugi pellizzari vicini di casa Svegliati dalle urla disperate delle figlie La più giovane che non ha piangere È rimasta spaventata parecchio È andata a dormire Anche il marito, insomma, non sono stato in grado Perché poi l'hanno sedati Non sono stato in grado di difendere la mia famiglia E c'è rimasto male, piangeva Insomma, e queste cose qui chi te le... Queste cose restano poi Cognugi pellizzari che raccontano di come l'area residenziale in cui vivono Sia tutt'altro che si cura Noi abbiamo proprio aperto il garage Il garage poi ha la porta che dà sul soggiorno Quindi... Ma questa quindi non è una zona che si può definire tranquilla Viene battuta spesso dai ladri purtroppo Sì, sì, purtroppo Qua, ripeto, hanno già fatto questo peripassato Ripetutamente Con la certezza della pena Il signor Pellizzari invoca la necessità di ripensare Al criterio della legittima difesa Chi è offeso Deve essere tutelato A differenza di quello che succede adesso Che è tutelato invece Chi offende Ha capito? Quindi qui ci sono delle regole Delle norme che vanno rovesciate Cambiate Lasciamo la cronaca Parliamo invece di questa nebbia Che da un po' di giorni sta avvolgendo un po' tutta la marca Nebbia che ha provocato disagi e incidenti Con voli sospesi E sentiamo anche quelle che saranno le previsioni Diciamo per quanto durerà Ennesima giornata di disagio e incidenti stradali nella marca Provocati a causa della fitta nebbia Già dal primo mattino A cominciare dalla difficoltà incontrata Dei passeggeri in transito all'aeroporto Canova E che diretti verso Bari, Palermo e Francoforte Si sono visti cancellati gli attesi voli Perché dirottati verso gli scale di Venezia, Trieste e Bologna O, alla meglio, arrivare in ritardo 40 minuti di ritardo per la nebbia Spero non succedano contrattempi Tanta la gente che stazionava questa mattina allo scalo trevigiano In attesa di sapere se il volo sarebbe decollato o meno Che io sappia no Non è stato avvisato niente Non c'è scritto niente ancora Speriamo di no Le importizie per dove? Per scoppie E il suo volo che stai sappia in orario Ci sono problemi causale Per adesso in orario Penso di no, non so Fuori dallo scalo, sempre questa mattina Verso le 8 a causa della nebbia Uno scontro frontale tra una Mercedes e una Citroen Impegnate nella svolta L'incrocio tra via aeroporto Strada che collega le statali noalese e Castellana E strada di Boiago Scorciatoia grazie alla quale si riescono a evitare le code noalese Incidente che per fortuna non ha avuto gravi conseguenze Tra i due automobilisti Ma che ha causato lunghe code fino a metà mattina Difficoltà provocate dalla nebbia eccezionale E prevista anche per i prossimi giorni Purtroppo ancora 5-6 giorni Cominciamo a vedere un cambiamento A meno dalle carte attuali Per martedì, mercoledì più probabilmente Della prossima settimana Quindi fino ad allora abbiamo queste nebbie Che si concentrano in pianura Si concentrano in pianura Durante le prime ore del mattino Parte durante metà giornata Con il riscaldamento solare Aumenta la temperatura Quindi si allontana la saturazione Abbiamo un miglioramento della visibilità Ore centrali Poi in serata Cala la temperatura E di nuovo la nebbia Avete visto l'incidente sulla Nualese Un altro incidente che è caduto questa mattina Intorno alle 9 in quel di Montebelluna Un camion all'altezza di Pilastroni Ha avuto un problema Ed è rimasto bloccato Proprio alle porte della città Grande problema di viabilità Con tutto il traffico bloccato Per fortuna prontissimo L'intervento del sindaco Che in poco tempo È riuscito con i vigili E i carri attrezzi A spostare il mezzo E quindi a far riprendere il traffico Questo per chi si è trovato in coda Per quasi un'ora Proprio alle porte di Montebelluna E da Montebelluna invece Ci spostiamo a Vedelago E vediamo insieme delle immagini Che ci arrivano da Nicolò Calegari Il nostro telespettatore Che ha scattato queste foto Immensi e grossi sacchi neri Di spazzature Gettati e abbandonati In mezzo al verde della campagna Tra Fossa Lunga e Pezzan di Strada Nel comune di Vedelago Scempio che denota Una chiara ignoranza E senso di inciviltà Da parte di chi abbandona i rifiuti Piuttosto che gettarli Negli appositi cassonetti Dice il nostro telespettatore Che domani segnalerà il fatto Anche la polizia locale È l'ufficio di igiene ambientale E adesso invece Torniamo a Treviso Perché parliamo di cooperazione Una cooperazione che ultimamente Diciamo così Ha l'immagine un po' appannata Laddove si lavora Sui bisogni delle persone E sulla connessione tra le persone Credo che sia possibile Un processo di integrazione nel tessuto E quindi anche riconoscersi Come dire Simili E lavorare insieme Perché le nostre comunità Possano crescere È una delle voci Della cooperazione Che gestisce la questione Profughi nella marca Ed è il volto positivo Dell'associazionismo Lontano dalle cooperative Di Buzzi a Roma E ai soldi di Mafia Capitale Ma altrettanto lontano Da altre cooperative Che si stanno trasformando In S.P.A. Quelle per azioni A responsabilità limitata Ovvero le popolari Come Veneto Banca O la popolare di Vicenza Dove il principio Che uno vale uno Si trasformerà presto Nel chi ha più azioni Comanda È questo il principio Della cooperazione Come azienda Oggi più che mai Infangato dalle molteplici Vicende economiche Politiche e giudiziarie Eppure La cooperazione possibile Era il sogno avverato Di un grande economista Oggi beato A Pieve di Soligo Quel Giuseppe Toniolo Che ipotizzò proprio Nella cooperazione Il riscatto Dei bisnenti Dalla miseria Cooperative bianche Nate all'ombra Dei campanili Che si confrontavano Con quelle rosse Di un socialismo Del tutti uguali Che nella piana emiliana Romagnola Ancora oggi È presenza viva e vivace Oggi la cooperazione È appannata Dal malaffare E per questo Sabato a Treviso Scende in piazza Per dimostrare Che il tutti insieme È ancora possibile Soprattutto per i giovani Dobbiamo saper interpretare Da oggi in poi I vecchi principi Con le nuove sfide Che stanno venendo avanti Sostanzialmente Perché comunque La cooperazione È un valore Per la marca Testimoniare Praticamente Qual è il valore Anche economico Della cooperazione Perché non siamo Solo principi E valori Ma siamo soprattutto Un aggregato Economico Importante Che oggi In provincia di Treviso Occupa 7.000 persone E parlando di malaffare Sapete che È di queste ore L'ennesimo scandalo Quello che riguarda L'olio di oliva Che dovrebbe essere Extravergine Ma in realtà Extravergine non è E allora Noi siamo andati a vedere Qual è la situazione Nella marca Che produce dell'olio Non ne produce tanto Ma è ipercontrollato E di altissima qualità Lo scandalo Dell'olio taroccato Scoperto dai NAS di Torino Non tocca Gli olefici della marca La produzione mirata E l'altissima qualità Derivata dalle olive Lo pongono Tra i migliori Del Veneto E d'Italia Nella terra Dove esiste Da qualche anno Il frantoio Di Cappella Maggiore Attualmente Per altitudine Il più alto D'Europa I controlli di qualità Sono continui Ed estremamente rigorosi L'olio Delle colline venete Sono fra gli oli Più Più Pregiati D'Italia Il problema È che non c'è Una grossa Massa critica Commerciale Quindi Ce n'è poco Per poter Consentire Una grande Una grande Un grande progetto Di valorizzazione Commerciale È un olio Per pochi Infatti Costa caro Le colline asolane L'area dove maturano Le olive migliori Che danno un olio Davvero extravergine D'oliva E proprio Perché di nicchia Una produzione Di marca Certificata Dai controlli Perché altrimenti Facile da contraffare Perché è molto facile Tra virgolette Taroccare Quello che è Un ottimo Olio Di oliva Normale In olio Extravergine D'oliva Basta un po' Di clorofilla Basta una riduzione Di acidità E l'olio Di oliva Diventa olio Extravergine D'oliva Cioè olio Di primissima qualità Di prima spremitura Per un olio extravergine D'oliva I costi di produzione Non permettono Un prezzo inferiore Ai 12 euro Al litro Sullo scaffale Chiaro per il consumatore Che valori più bassi Come 3-4 euro Non possono garantire La qualità superiore Da tante olive Può uscire Tot olio E non di più Quando l'olio Si moltiplica Quando lievita In quantità Vuol dire che è stato Commesso qualche illecito Dal punto di vista Del commercio Ben inteso Non è un problema Di carattere igienico Sanitario Perché anche l'olio Di oliva È un olio Che può essere Tranquillamente Consumato E non dà E' un danno Per la salute Però dal punto di vista Del patto commerciale Fra cliente E fra consumatore E produttore Diciamo che È una truffa Sostanzialmente Quindi occhio Quando andate La prossima volta Al supermercato E occhio soprattutto I prezzi Per capire Che cosa acquistate Invece Non va acquistato Ma arriva in omaggio Il calendario Dei carabinieri Che cominciate a vedere Quello di quest'anno È particolare Perché è una rivisitazione Di alcuni capolavori Dei grandi rappresentanti Della pittura italiana Ed europea Da Modigliani A De Chirico Da Monet a Dalì Da Toulouse-Lautrec A Van Gogh Attraverso l'inserimento Nelle opere Di carabinieri E simboli legati all'arma È il calendario 2016 dei carabinieri Che è stato presentato In questi giorni Tra l'altro Anche a Treviso Tra Appunto Nel comando provinciale Di via Cornarotta Il comandante Il colonnello Ruggero Capodivento Appunto Ha presentato Questo singolare Vedete Proprio nelle immagini Questo singolare Modo Di interpretare La benemerita Con le immagini Ecco invece Questo Salvador Dalì E i suoi cavalli Interpretati Con i carabinieri Appunto A cavallo Che è uno dei simboli Diciamo Dell'arma Dei carabinieri E adesso invece Siamo in chiusura Intorno alle 19.40 Non prima Di aver ricordato Il focus Di questa sera Il governo Taglia tutto e tutti Forché la spesa pubblica E i commissari Della spending review Scappano È uno dei temi Di cui si parlerà Questa sera A focus Ospiti del nostro direttore BBG Baciali Saranno Leonardo Padrin Eugenio Benetazzo Seggio Berlato Massimo Bettin Gian Antonio Dare Antonella Tocchetto Silvana Tosi E soprattutto Tutti voi Con i vostri sms Con questo è tutto Da Treviso Grazie a tutti voi Per l'attenzione E buona serata Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti